Qualche mese fa ho fatto un video su tutta la mia collezione tolkieniana dal punto di vista dei libri, dei dvd, dei libri direttamente di Tolkien e dei libri di saggistica dedicati a Tolkien. Beh, è arrivato il momento di fare una piccola integrazione perché nel corso dei mesi ovviamente ho aumentato la mia collezione. Non si tratta di un video sostitutivo in alcun modo. In quello avevo sfoderato l'arsenale pesante. Adesso si tratta solo di mostrare quello che mi sono fatto arrivare negli ultimi mesi o che comunque ha implementato la mia collezione. Cominciamo con l'importante I mondi di J.R.R.R. Tolkien I luoghi che hanno ispirato la terra di mezzo. L'ha pubblicato la Mondadori e l'ha firmato John Garth già autore di Tolkien e la Grande Guerra. Si tratta di un libro illustrato con le foto assolutamente degno di menzione. E poi qui abbiamo la riedizione dell'Atlante e della terra di mezzo di Tolkien che presenta un testo riveduto e corretto che presenta le mappe in inglese, quelle originali. E poi un testo in italiano che riprende la nomenclatura dell'ultima edizione del Signore degli Anelli con la toponomastica di Ottavio Fatica. Quindi voi tutti che odiate la nuova traduzione beh, scappate a gambe elevate. Poi c'è la trasmissione del pensiero e la numerazione degli Elfi della Marietti 1820 che affronta la problematica della trasmissione del pensiero negli Elfi come fanno Galadriel, Celeborn e Gandalf alla fine del Signore degli Anelli un particolare spesso ignorato dai più. Poi un saggio antologico in te c'è più di quanto tu creda l'avventura umana secondo Tolkien nell'Hobbit. Si tratta di una raccolta di vari saggi di autori come Claudio Antonio Testi Lorenzo Gammarelli Chiara Neirotti Paolo Gulisano Stefano Giorgianni Roberto Arduini Gian Paolo Canzonieri veramente ben fatto ogni saggio affronta personaggi eventi episodi narrati nell'Hobbit e presenta anche delle illustrazioni abbastanza ben fatte. Questo interessante libretto di Tyler Chi è Tom Bombadil dedicato a una delle figure più famose e fortunate controverse e discusse dell'intero universo tolkieniano qui analizzato in una chiave esplicitamente ambientalista è un libretto che ci invita a fare i conti col problema della natura intorno a noi e soprattutto ci invita a considerarla e a rispettarla maggiormente. Le Gemme dello Spirito di Fabrizio Ricci un commento teologico al Silmarillion pubblicato da E.F.A.T.A. è un testo chiaramente improntato a una lettura religiosa del Silmarillion è un paragone tra la fondazione del mondo del Silmarillion e la Genesi Biblica e poi il concetto di caduta insomma una lettura teologica e cattolica del Silmarillion devo ancora leggerlo non credo mi convincerà di tutto però è assolutamente degno di attenzione poi per passare all'inglese abbiamo The Unfinished Tales i racconti incompiuti la nuova edizione con le illustrazioni di Alan Lee John Howe e Ted Nasmit questo è un libro di pura pornografia editoriale a chi piacciono ovviamente i libri di questa carattura e di questo formato un'altra edizione dell'Hobbit che poi è la stessa dell'Harper Collins che avrò già in altre 200.000 versioni che però ha una nuova sovracoperta The Shaping of Middle Earth il quarto volume della History of Middle Earth io possiedo originali solo il numero 3 e il numero 4 si tratta di letture veramente difficili cioè tutto quello che Tolkien ha composto sulla terra di mezzo che quindi va oltre quello che siamo abituati a conoscere nel Silmarillion e quindi A Question of Time di Verlin Flieger una delle maggiori studiose di Tolkien autore di schegge di luce questa è la versione americana del libro in inglese perché in Italia non è mai stato tradotto J. R. R. Tolkien's Road to Fairy si tratta di un'analisi dell'opera di Tolkien alla luce del sogno e del mondo onirico e non solo del tempo e quindi The Tolkien Companion un libro che mi è stato regalato e che risale addirittura agli anni 70 a essere precisi al 1976 quindi quando ancora la critica tolkieniana era ancora agli albori dal momento che lo stesso Tolkien era morto nel 1973 insomma alla fine non è che stiamo parlando di chissà quali novità però si tratta sicuramente di cose importanti e preziose perché il tesoro di un tolkieniano come il tesoro del drago di Smaug è sempre in costante aumento il tesoro un tesoro e per il tesoro